Gesù disse Ciò che odi col tuo orecchio, proclamalo dalla cima del tetto. Poiché nessun uomo accende una lampada e la pone sotto un moggio, e non la mette sotto un moggio o la mette in un luogo nascosto. No, egli la pone su un piedistallo, in modo che tutti coloro che vanno e vengono ne vedano la luce.